La stagione di coltivazione dell'asparago di Santena è iniziata a metà aprile con previsione di una produzione abbondante e di alta qualità. La 91esima edizione della Sagra dell'Asparago, in programma da venerdì 17 a domenica 26 maggio, è stata presentata ufficialmente nella sede della città metropolitana di Torino. Come sempre numerosi gli eventi culturali e gastronomici che accompagneranno la rassegna che valorizza l'ortaggio simbolo della patria del conte Camillo Cavour, tutelato dall'Associazione Produttori dell'Asparago di Santena e delle terre del Pianalto. La campagna sta andando bene, diciamo che abbiamo avuto qualche intoppo per questo maltempo che anche oggi ci accompagna, però non ci lamentiamo perché i produttori sono soddisfatti, continuano a vendere, il prodotto è buono e il nostro asparago come sempre è uno dei più dolci riconosciuti e quindi al momento non ci lamentiamo e partiamo con questa Sagra ottimisti. Perché è così tanto cercato l'Asparago di Santena e si differenzia da prodotti di altri territori? Diciamo che la sua caratteristica, a parte i tre colori, il bianco e il verde intenso, le sfumature violacee che devono sempre esserci per avere caratteristica nostra del prodotto, non è fibroso, quindi queste sono le caratteristiche proprio del nostro prodotto. Presidente, allora ci sarà poco da annoiarsi in questi giorni a Santena e in questi giorni di Sagra perché avete preparato un programma fittissimo perché la città di Santena deve mettersi in vetrina. Abbiamo fatto un bel programma ricco e tutti i giorni abbiamo messo da fare, poi abbiamo aumentato anche la struttura dove si mangia da 80 posti in più, perciò arriveremo circa sui 400 posti a sedere e perciò cercheremo di soddisfare tutte le persone che vengono. Dieci giorni di iniziative, eventi, musica all'intorno dell'asparago di Santena, il re della tavola di primavera, dal 17 al 26 maggio in piazza Marti e Libertà a Santena. Deve essere una Sagra a misura di giovani, quindi serate musicali e quant'altro? Serate musicali su tutte e dieci le serate, ogni sera gruppi diversi, generi diversi, si va dal liscio al latinoamericano, al rock, quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. La bella sparsera, il suo chatarine, che cosa significa l'identità del vostro paese sostanzialmente? Noi rappresentiamo il mondo contadino santienese, ma in maggior modo il suo maestà l'asparago. In rappresentanza di questo mondo contadino lo portiamo in giro per vari paesi di varie regioni, per far conoscere le qualità e la prelibatezza di questo ortaggio. Io rappresento il chatarine, la tradizione, questo personaggio nasce all'inizio del Novecento, nasce all'inizio del Novecento dove c'era bisogno di vendere gli asparagi, quindi il chatarine andava, chiamiamolo così, andava sulle piazze a promuovere questo prodotto, però doveva essere una persona abile, doveva essere un chiacchierone, una persona che sapeva esporre il prodotto. Invece la seconda versione dicono anche che abbia preso un po' il nome da questo coltello, che una volta lo chiamavano il chat, quindi può anche darsi che venga chiamato il chatarine.